Salve a tutti ragazzi, qui è Giuseppe Gamer e siamo in compagnia di Francesca Oggi siamo in un nuovo gameplay di Super Mario 3D World per Wii U Faremo due nuovi livelli, magari se riusciamo faremo anche qualche altro bonus Tipo quei mondi lì particolari come questo qui di Toad Li abbiamo trovato in fondo anche un segreto, pensate Quindi se riusciamo... L'ho trovato io, non abbiamo un nuovo L'ha trovato lei, ok Cercheremo quindi se è possibile di fare quante più cose possibile in un solo video Ora partiamo magari con questo primo mondo, va Cos'è quello? Nessi, il mostro di Loch Ness Infatti si chiama Rapide di Plessi Plessi, ah vabbè, quindi una sorta di richiamo a Nessi Un estere... oh cavolo Che carino Mi uccidi No, credo sia... Dobbiamo salirci in groppa No, fighissimo Procedi verso il traguardo in groppa a Plessi Ok ragazzi, iniziamo Regola la velocità con L, vabbè Comunque, io che faccio? Eh ma posso controllarlo anch'io? Lo sto controllando io No, lo sto controllando io Ma anch'io però Siamo in due a controllare E allora facciamo diventare scemo Sì, diciamo che comincia ad impazzire Pam, siamo saltati Una stella Stella Ok, recuperata, bene Comunque ragazzi, sta scena è fighissimo C'è questa modalità qui di gioco Aspetta, dove dobbiamo andare qua? Vai sotto, vai sotto No, no, c'è la sinistra Pam, lo sapevo, vai qua C'è un segreto di sicuro Non c'è niente proprio Sì, però andavi più veloce così, vedi? E vabbè, andava a molestire le monete più Io direi di salire Forse c'è una moneta lassù Sali, sali Ma mi sembra di aver visto una stella Attenzione E se sali ancora qua Non ti far male C'è qualcosa? No, aspetta Mannaggia Ce la facciamo, sì o no? No No Vabbè, non importa Va, salta, buttati, lanciati Buttami che morbido Buttami che ti butto a terra Che morbido È perché sto parlando con lei Cioè, comunque Davvero, da un punto di vista Di rivoluzione Davvero è figa sta scena Cioè, no, sta scena Questa, diciamo Come... No, no Gira a sinistra Hai visto cosa c'era là? Mi hai ucciso Non l'ho fatto apposta Ragazzi, davvero A controllare in due No, da capo A controllare in due plesse È davvero difficile Comunque, vabbè Ci proviamo lo stesso Regola la velocità Sì, ora mi dice di nuovo Le stesse cose di prima Ora sei concentrata? Sì Ok Vincerò Vincerò Vai Procedi Gira Secondo Ce la facciamo Ora dobbiamo prendere la stella là Sì Ci sei carica? Ok, presa Presa Ora questa volta vuoi girare a sinistra Sì Il tunnel Oppure No, no Voglio prendere i cerchietti Eh, allora dovresti dovuto andare a destra No, a sinistra I cerchietti sono questi Scusate Sì, ma stavano a destra No, a sinistra Sì, no Non ho detto nessuno Hai detto a sinistra Non è vero Abbiamo la registrazione Ragazzi, voi siete testimoni Siete testimoni Tu voi ho detto a destra a sinistra Attenzione a non farti del male Qua Attenzione, vaici sopra Beh, no Non ti do Ci fareva, eh Ecco, brava Ecco cosa Guarda, sembra tipo Quando vola Sembra Lugia Ragazzi Quando si è lanciato Sembrava Lugia di Pokémon Attenzione Salta qua Non lanciarti Attenzione Allora, quello No, no Aspetta, non possiamo prenderlo Preferiscono rischiare Abbiamo qua poi lo stampino Cos'è? Il timbro Stiamo morendo Stiamo morendo Stiamo morendo Eravamo proprio sul filo del rasoia Nel caso di dirlo Attenzione a non farti male qua Salta nel caso in cui non riesci a A spostarti in tempo Salta ancora Aspetta quando è carino Attenzione Se vedi alla fine c'è una stella Non saltare Non aspetta, invece salta Ok, facciamo finta di nulla Va benissimo, sì Siamo arrivati? Abbiamo finito già Comunque è una scelta Ah, ci saluta anche Fighissimo Aspetta, ma qua c'è qualcosa Magari Un easter egg No, non c'è nulla Volevo solamente lanciarmi Ciao, ciao Che poi se penso sia il femminile Quindi scendiamo Abbiamo già finito il livello? Sì, credo di sì Quindi sicuramente possiamo farne un altro Pensavo fosse più lungo Che è qua? Oh mio dio Ahah, sono primo Sì Vabbè Mario Quindi una bandiera finalmente mia Se non avete visto ragazzi Il precedente episodio Come al solito Vi metto una notazione in alto a sinistra Su cui cliccare Se volete poi inoltre Che questa diventi una serie Mi raccomando Fatemelo sapere nei commenti Che carino Che carino Sembra il tipo lì del gelato Come si chiama? Quelli di Gardland Che carino? No Non ricordo No, non Sansone San Montano C'è la canzone C'è la canzone Che cavolo si chiama? No, non è quello di Gardland Procedi, vuoi andare avanti Comunque non ricordo C'era un tipo che ci assomigliava qui Una di quelle mascotte dei Possiamo già andare al castello? No, già al castello No, e dobbiamo fare gli altri livelli No, dai Facciamo il livello giù ragazzi Poi se volete vedere il castello Me lo scrivete magari ora nei commenti Dipende tutto da voi ragazzi Quindi se questa serie va avanti o meno Fatevi sentire soprattutto con i like Quindi vi invito ora a lasciare un like Giusto qui Che non stiamo facendo nulla Avete il tempo di lasciarlo Perché davvero per me è importante Per capire Se vi piace ciò che propongo E quindi In base a ciò Capire Cosa proporvi in futuro Che cavolo è qua? Siamo entrati in una sorta di circo Facciamo diventare tutti dello stesso colore I cavolini qui Ok siamo andati sul verde qua Possiamo procedere? Sono piccina Vai vai corri Troviamo sicuramente qualcosa Non farti colpire Queste sono cattive proprio Sì sì sono cattive Fuggi fuggi Ti proteggo Che cavolo è qua? Sono piccino Sono diventato anche io piccino Cavolo Che è qua? Cos'è questo? Ah non succede nulla No aspetta Qui è un gioco di squadra da fare Attenzione Scendi qui Poi saltiamo Aspetta Fa a me Ok Ora Ok non ti muovere Non ti muovere Faccio tutto io Faccio tutto io Ce l'abbiamo fatta Hai visto? Io 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 Possiamo Oh mio dio Io sono piccino qua Io muoio Io muoio Devi salvarmi Ti salvo io Ecco sono morto Ti pareva Ecco Eh no qua muori anche tu Ti sei presa la corona No Ma io non compaio più qua Ah no invece si Sono grande Com'è possibile? Io dove sono? Ah ok No secondo me dobbiamo andare sopra Non possiamo più tornare indietro Cavolo Ma tutte le stelline Ah no perché non è infine Ah l'ho presa io L'ho preso io No Aspetta Poi è difficilissimo Faccio io Faccio io Guardate com'è veloce Mario Davvero figo Oh No aspetta No sono tornati blu questi Salta Bene 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 Stiamo procedendo benissimo No no aspetta Qua è difficile No 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 Sono morta La corona La corona Dov'è? È mia Presa io La corona Aspetta Prendo questi due Fatta Ce l'abbiamo fatta Bene C'è il cuoricino qua Entriamo nel cuore No è scomparso il cuore Aspetta Ci sono Ci sono delle monete qui Particolari Ecco le ho viste Lo sapevo che c'era Monete invisibili Ecco Monete invisibili ovunque Cos'è qua? Aspetta Parte la sfida Attenzione Prendiamoli tutti Va No 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 Non sono più gatto Aspetta Vai qui E vai lì Bene Abbiamo Uno solo ce ne dà Ma non è possibile Dobbiamo andare lì Sì ci sono andato No Ti sei salvata Ti sei salvata Con colore Ok questo è mio Penso che se colpisco Ecco te ne dà uno anche a te Eh raccoglio Non l'abbiamo più raccolto Perché dovevi fare per forza Lo smacarato Io No no Che ne so io Vai salta con me Veloce Oh cavolo Questo ci colpisce Fuggi Ecco Ti pareva che dormi Stai dormendo Francesca dorme Tu corri avanti Io corro avanti Io corro avanti Aspetta Abbiamo preso qui anche la stella Ah hai preso Perché mi lasci sempre indietro Scusami Ti chiedo di perdonarmi Aspetta Ecco qua Ho fatto io Cioè No aspetta Non mettiamo il jingle Non cantiamo con un tono di musica Altrimenti YouTube ci Ci dice che abbiamo Violato il copyright Qua Ormai ragazzi Non siamo più liberi Di fare nulla Qua su YouTube Scusami Scusami Ti chiedo perdono Ecco Ecco Ti ho visto proprio Diciamo cadere così Davvero in modo simpatico Per pochi Da quel lato Non c'era niente Uno stampino Come Ah ok Recuperato Aspetta No Sei arrivata prima di me No Ho perso la corona No Perché sotto la tua gonna Che cavolo Livello completato Abbiamo vinto Sì abbiamo vinto Abbiamo vinto Dai hai vinto tu Ho vinto io questa volta Ok abbiamo anche uno stampino La campana Va Andiamo avanti Ora direi che è il caso Vediamo Joseph Gamer Sempre in prima posizione Una volta Voglio arrivare prima Una volta Ok ora direi Facciamo Magari questo qui Con Todd No quello Ah esatto esatto C'è il mondo segreto Andiamola a fare Salvataggio in corso Bene Ok Ok Prendi la monetina Che non serve a nulla 100 monete sono una vita Hai ragione Hai ragione Premi A Ok 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 Ah non è un mondo segreto È semplicemente qui L'altra abbiamo scelto quello piccolo No se scegli quello piccolo Nella botte piccola c'è il vino buono Cosa ne pensi Sì hai visto E infatti Vabbè c'è roba buona qua Mica male Ah sono gatto e tu no Ah Possiamo Sono gatto Aspetta facciamo in questo modo Facciamo meno Io prendo questo Ecco qua E poi tu puoi ottenere Ecco il gatto Sì c'è un miscia fantastico Mamma mia Con questi gatti Aspetta un po' Vediamo ora di fare Anche magari Andiamo dal Toad In modo tale Dal Toad Dal Toad Perché come Come devo chiamarlo Dal Toad Dal Toad Perché Neo Non ti chiama Toad Che cavolo Wow Ci sono 5 monete da prendere Vai premia Stelline Stelline Ah hai ragione Questo livello per un giocatore Si gioca solo col gamepad Quindi io non posso giocare Vai procedi Ti prenderemo in giro Ci metteremo ogni In modo molto simpatico Ragazzi Uno Trattino Toad No Che cavolo è È difficilissimo Vuoi far provare me? No Ecco ti pareva Morirà millemila volte E in 3D No sono Toad Allora Capitan Toad L'intrepito cacciatore di stelle verdi È pronto per una nuova avventura Guidalo alla ricerca delle stelle Vabbè Ci dice un po' Di prendere le stelle In conclusione Buona fortuna Non sa saltare No Ah devi spostare tu la visuale Si Quindi devi andare tutto a piedi Ecco là c'è una stella Come correre brutto Fa piuttosto piano eh Vabbè Comun Ah no corre invece Allora aspetta ecco Aspetta qui il Il cosino E poi Ecco vai 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 No Ecco lo sapevo Comunque è davvero un Fighissimo sto tipo di Ce la faccio Ce la faccio secondo te Si si ce la fai vai Benissimo benissimo Devi spostare però credo di Continua la visuale Attenzione qui a dove sbuchi No aspetta vai prima Vai prima nell'altro lato Ecco però gira la visuale Qua cadica Non muoverti Sono sicuro Ecco che cadevi Se procedevi troppo oltre Mamma mia sono proprio Infami Si sono infami davvero Comunque davvero Fighissimo Aspetta aspetta Procedi procedi veloce Mamma mia Francesca Attenzione Le stare Soffia Dove devi soffia Attenzione Mamma mia stavi morendo Soffia Ma dove cavolo devi soffia C'è il microfono Come cavolo c'è il microfono Mamma mia Francesca The Gamer Ho vinto Questa volta sia il caso di dirlo Livello completato 5 stelle Davvero Complimenti ragazzi Dobbiamo fare i nostri complimenti Sbattere male Brava Quindi ragazzi Direi che il video Si può concludere anche qui Ecco con Todd che ci saluta Speriamo che questo video Vi sia piaciuto Vi ricordiamo di lasciare Un mi piace Un commento Iscrivervi al canale Nel caso in cui non state già iscritti Il commento è importante Per farmi sapere Se volete che continuiamo la serie Quindi ragazzi Qui Giuseppe di Gamer E Francesca di Gamer Vi salutano E alla prossima Ciao Ciao Questo è enorme Questo coniglio Perché No Che figata Divento gigante No Cavolo Ma distruggo tutto Eh no Adesso muoio però Non credo nella bolla C'entra poi Mario Guarda che figata Ciao